Passiamo anche una mattina. Ecco qua. Allora siamo a Salcano, abbiamo parlato con i nostri cugini e hanno detto che c'è un po' di confusione perché anche loro si sono trovati all'improvviso di chiudere i confini. In pratica qua c'è il controllo, qua il tampone non viene fatto tutti i giorni, da martedì a venerdì mi sembra che non c'è, c'è un po' di confusione anche lì. Si può andare in Slovenia solo per motivi di salute, di lavoro, parenti, quella roba lì. Comunque i confini sono chiusi e comunque bisogna fare il tampone. Come oggi, per esempio, oggi non c'era nessuno che poteva fare il tampone. Il problema è uguale, sarà venerdì e sabato. Però praticamente lunedì hanno detto e mercoledì no? E adesso domani veniamo a chiedere a Roby perché loro hanno detto che non è roba sua. Comunque, ci sono dei giorni alterni che non si può fare il tampone. Quindi magari la gente arriverà qua e non potrà andare oltre. Venerdì andiamo a vedere in autoporto, sarà un casino di camio e tutti quelli dovranno fare il tampone e aspettare un'ora per poter transitare in Slovenia. Speriamo. Siamo a Salcano a vedere come sono messe le strade. Ok, perfetto. Te le rompo.